Buongiorno a tutti, oggi è il 27 aprile 2021 e sono le ore 9, prima convocazione della prima commissione consigliare. Attestiamo le presenze dei consiglieri Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli, considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione, si rinvia alla seconda convocazione alle ore 10. Interrompiamo la registrazione.